Da poco sbarcati da una nave da crociera attraccata al porto di Palermo, stavano percorrendo la centrale via Roma, ammirando la bellezza del centro storico della città, quando sono stati aggrediti e rapinati. Arrestato ieri pomeriggio dalla squadra mobile diretta da Rodolfo Ruperti, il 25enne Nunzio Logelfo, pluri pregiudicato palermitano. Il giovane si sarebbe scagliato contro uno dei due anziani turisti spagnoli per strada, strappandogli dal collo una collana d'oro per poi darsi alla fuga. Lanciato l'allarme, è partita subito la caccia al malvivente. Gli agenti si sono immediatamente mobilitati alla ricerca del giovane in tutta la zona, fino alla stazione centrale dove lo hanno individuato. Logelfo, una volta accortosi della presenza dei falchi, ha provato a fuggire, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti, che hanno subito recuperato la collana rubata per restituirla al malcapitato turista. Già noto alle forze dell'ordine per analoghi reati, il 25enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa di direttissima.